Amici di TecnoAndroid, finalmente Huawei Mate 10 Lite, lo smartphone Lite solo nel nome, che potrebbe diventare il primo Best Buy del nuovo anno. Scopriamone pregi e difetti nella recensione completa dopo la sigla. Partiamo dalla dotazione abbastanza completa che potete vedere alle mie spalle. Oltre al Huawei Mate 10 Lite è presente una cover protettiva in plastica dura, ovviamente l'alimentatore con cavo USB, micro USB purtroppo, il manuale di istruzioni, il pin per estrarre il carrellino delle SIM e delle cuffie auricolari. Dal punto di vista estetico conserva il giusto legame con il fratello maggiore Huawei Mate 10 Pro. A grandi linee la parte frontale rimane invariata conservando il display 18-9 contornato da bordi molto sottili che incorporano i vari sensori e le due fotocamere. Già, perché Huawei Mate 10 Lite ha ben due fotocamere nella parte anteriore. Le dimensioni, dato il grande display, sono abbastanza generose, così come anche il peso, che si aggira intorno ai 160 grammi. Il corpo dello smartphone è realizzato con materiali che ne evidenziano la qualità costruttiva. Nella parte frontale abbiamo il vetro con bordi 2,5D, mentre il body è interamente realizzato in metallo. Senza l'utilizzo della cover e utilizzando il telefono su di un piano, lo smartphone tenderà a destabilizzarsi per via della fotocamera posteriore sporgente. Design, a mio parere, molto bello, le uniche pecche sono appunto la fotocamera sporgente, la scivolosità e l'ergonomia. Questi problemi però sono risolvibili con la cover in plastica dura presente in confezione che risulta molto spessa, tanto da annullare il dislivello tra body e fotocamere posteriori e migliorarne anche il grip. Lungo i bordi prenderanno posto sul fianco sinistro l'alloggiamento per la doppia SIM, o SIM più microSD. Nella parte alta esclusivamente il secondo microfono, sul fianco destro il bilanciere del volume, il tasso accensione e spegnimento, mentre nella parte bassa lo speaker, il microfono di sistema, il jack e l'ingresso microUSB. Non capisco la scelta di Huawei, infatti trovo quasi inspiegabile la mancanza del Type-C. Come detto, presenta una doppia fotocamera anche nel posteriore che sporge di qualche millimetro e si posiziona nella parte alta tra il flash e il sensore d'impronte. La colorazione nera dona al metallo un aspetto ancora più pregiato, rendendole elegante e mai eccessivo. Huawei Mate 10 Lite monta un pannello IPS LCD da 5,93 pollici, con risoluzione pari a 1080 x 2160 pixel. Il display Full HD+, come lo definisce Huawei, è un 18 noni ed occupa quasi per intero la superficie anteriore, con un rapporto screen-to-body del 76,5%. I colori sono molto buoni e abbastanza fedeli e insieme all'ottimo contrasto garantiscono una buona resa generale e un'ottima visibilità in ogni circostanza, nonostante la luminosità massima non troppo elevata. Alcuni accorgimenti software permetteranno all'utente di settare la temperatura colore tra calda, fredda o predefinita, ma potrà essere anche personalizzata spostandosi all'interno della palette colori. Non manca il filtro luce blu ideale per limitare l'affaticamento degli occhi dovuto a un utilizzo prolungato dello smartphone. Come già annunciato, Huawei Mate 10 Lite non è assolutamente un entry-level, ma ha una scheda tecnica di tutto rispetto da medio gamma. Il processore è l'ottimo ai Silicon Kirin 659, realizzato come da tradizione dall'azienda riconducibile a Huawei. La memoria RAM a disposizione è da 4 GB e sono ben 64 GB di storage interno. Da non trascurare la possibilità di espandere la memoria interna tramite microSD, utilizzando lo slot della SIM 2. Il SOC è una versione aggiornata leggermente più prestante dell'ottimo ai Silicon Kirin 650. È un octa-core con frequenza massima a 2,36 GHz, che abbinato alla GPU ARM Mali-T830 MP2 riesce a garantire ottimi risultati in qualsiasi tipo di situazione, caratteristiche ideali per sfruttare al meglio l'ampio display nell'ambito multimediale, compreso quello gaming. Lo speaker di sistema ha un buon volume ed una discreta qualità, che tutto sommato risulta sufficiente in un normale utilizzo. Le cuffie in dotazione sono di buona qualità, anche se il design l'ho trovato leggermente compassato. Lo smartphone conserva quanto di buono ci ha fatto vedere Huawei in questi anni in ambito di ricezione del segnale e del Wi-Fi. Dotato inoltre di radio FM, Bluetooth 4.2 e GPS, ma si sente la mancanza dell'NFC, del giroscopio e, se vogliamo, anche del sensore di infrarossi, che su alcuni Honor della stessa fascia di prezzo è presente. Rimanendo in ambito Honor, Huawei Mate 10 Lite condivide praticamente la stessa scheda tecnica dell'Honor 7X. Se non l'avete fatto vi invito a guardare la recensione di Gianluca, che è presente già sul canale. Le componenti si mettono a completa disposizione del software, che risulta praticamente fluidissimo, concreto e molto personalizzabile. La versione di Android è la 7.0, con patch di sicurezza, aggiornata all'1 settembre del 2017, con Emotion UI 5.1. È la solita interfaccia della casa cinese, ricca di personalizzazione, ma allo stesso tempo di facile utilizzo. Ottima la gestione della RAM, l'ampia scelta di temi e icone, e la gestione delle notifiche. Senza dimenticare la funzione App Gemella, due applicazioni associate ad account diversi. WhatsApp e Messenger su tutte. Il sensore di impronte digitali posto sul retro continua a non essere la mia soluzione ideale. La cosa più inspiegabile dal punto di vista software è l'impossibilità di abbassare la tendina delle notifiche scorrendo sul sensore, funzione gradita su uno smartphone dall'ampio display, e funzione che purtroppo l'Emotion UI ha perso negli anni. Per aggirare il problema si potrà aggiungere alla barra di navigazione il tasto a schermo dedicato, che però non gradisco, in quanto decentralizza il tasto home. L'impronta digitale nella parte frontale rovinerebbe l'estetica dello smartphone, e su questo penso siamo d'accordo tutti quanti. Ed è anche vero che si tratta di un terminale di fascia media, quindi non possiamo pretendere la lettura del volto. Però alcune marche della concorrenza hanno trovato altre situazioni al riguardo. Vedi Sony. Come sempre l'Emotion UI conserva la possibilità di creare delle blacklist di chiamate e messaggi, e introduce anche la funzione per registrare lo schermo. Come sappiamo il 2017 è l'anno della consagrazione della doppia fotocamera, però Huawei qui ha voluto strafare, perché ha messo una doppia fotocamera anche nella parte anteriore. Ci troviamo di fronte alla configurazione che sta coinvolgendo la maggior parte dei produttori, ovvero lente standard più lente zoom. La lente standard è da 16 megapixel ad apertura focale f 2.2 e restituisce molto dettaglio, soprattutto in condizioni ottimali. Le macro sono ottime e l'HDR migliora ulteriormente il risultato senza eccedere. Le foto scattate in luoghi chiusi sono valide, ma inevitabilmente bisogna accettare qualche compromesso, in termini di nitidezza e colori che risultano leggermente slavati e poco naturali. La fotocamera anteriore invece è da 13 megapixel e consente selfie di ottima qualità. Il secondo sensore, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, è da 2 megapixel e aiuta la fotocamera principale fornendole informazioni sulla profondità di campo. Questa collaborazione rende possibile l'effetto bokeh con discreti risultati. Huawei Mate 10 Lite registra video non stabilizzati in full HD a 60 fps, con una qualità generale buona e in linea con i dispositivi della stessa fascia di prezzo. Sarà possibile regolare alcuni parametri entrando nella modalità Pro Video. Funzione davvero molto utile. Modalità Pro utilizzabile anche per gli scatti con lo scopo di personalizzare il risultato finale e spremere al meglio le potenzialità della fotocamera. Di facile attivazione è l'HDR, la modalità bellezza e l'apertura ampia. Queste sono solo alcune delle tante funzioni disponibili del software fotografico di Huawei, che si conferma completo e di facile gestione. Huawei Mate 10 Lite è un terminale prestante ma allo stesso tempo molto equilibrato. Lo dimostrano i buoni risultati ottenuti sul piano dell'autonomia. La capienza è di 3340 mAh ed è sufficiente per coprire una giornata di normale utilizzo. Social, video, musica, navigazione e qualche foto. L'autonomia è migliorabile attivando la modalità di risparmio energetico che però fa perdere qualcosa a livello di prestazioni. In casi estremi la modalità Ultra verrà in soccorso, rendendo accessibili solo alcune applicazioni, tra cui telefoni, messaggi e contatti, più altre tre a scelta. L'aggiornamento ad Android Oreo che potrebbe arrivare nei prossimi giorni potrebbe migliorare ulteriormente questo dato. Il prezzo di vendita di Huawei Mate 10 Lite ufficiale è di 349€. Ovviamente online già si trova a qualche euro in meno. Sono disponibili tre colorazioni, tra cui la nera che abbiamo provato noi, oro o blu. Dovesse scendere ancora il prezzo, questo smartphone sarà sicuramente il Best Buy di inizio 2018, anche se dovrà vedersela con il suo fratellastro Honor 7X. Se questo video vi è piaciuto e la mia recensione vi è stata in qualche modo utile, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. Vi invito inoltre a leggere la recensione completa che trovate linkata in descrizione, così come i link per seguirci sui nostri social e sul nostro sito internet. Come sempre vi ringrazio per la visione e vi mando un saluto. Per Tecno Android, Emilio Colangelo.